Ciao a tutti e a tutti bentornati e bentornati al nuovo vlog, scusate ancora per la reazione che ho avuto al commento di uno di voi però io, mi conoscete, sapete che quando mi dà fastidio una cosa io reagisco in un certo modo, un po' come tutti gli esseri umani e nulla, a parte quello io oggi ho finito di fare questo qua che vi ho mostrato dall'altro nell'altro video che se volete andare a vedere lo trovate sul canale, oltre a quello nulla e sì, mi sono fatta male e anche qua, cioè ho tre dita mezz'andate, sì ma perdonatemi perché anche se non me le tocco sembra che ho la maledizione che mi taglio sempre, però vabbè, ormai mi ci sono abituata e nulla io a parte il fatto che sono preoccupata che domani entro a scuola perché dopo tutto questo tempo che stavo in vacanza io odio le vacanze quando sono poi tanto lunghe perché poi non mi ci abito più però vabbè, pian piano vedrò un attimo come fare, c'è proprio che tossisce, ma vabbè e a parte il fatto che oggi ho disegnato e adesso sto guardando Lion guardare i SGP, oltre a quello nulla spero di trovare qualcosa di più allegro da fare per tutto il giorno oltre a quello nulla io adesso vi saluto e noi ci vediamo in caso domani tardissimo con un altro blog ciao